Ma com'è possibile che in Italia non ci sia quasi nessun libro sulla terapia breve Solution Focus? Questo è veramente un mistero perché si tratta di uno degli approcci di terapia breve più interessanti e più diffusi al mondo, peraltro è uno dei quattro che insegniamo nella nostra scuola di specializzazione dell'Istituto ICNOS. In pratica cosa abbiamo? Quando bere diventa un problema di Berg e Miller, bellissimo, è fuori edizione. Chiavi per la soluzione in terapia breve di The Shazer che neanche era così Solution Focus al tempo e che è fuori edizione, terapia centrata sulla soluzione di Bill O'Connor che è fuori edizione, anche io ho soltanto la versione fotocopiata, come si fa? Per fortuna abbiamo un bel libretto che è il manuale terapia centrata sulla soluzione che però io non riesco a trovare, sono comprato l'imbarazzo, ce l'ho da qualche parte a casa, ho fatto venire Alessio per la registrazione ma non lo trovo, non lo trovo, non so dov'è, l'unico libro italiano che è diffuso e ancora non è fuori edizione, non lo trovo. Quindi solo per questa occasione come sostituto di manuale di terapia centrata sulla soluzione di O'Connor e Palmer userò la mia mucca a segnatempo. Se vi state chiedendo se questa è una gag, non è una gag, non riesco a trovare il libro. Allora, manuale di terapia centrata sulla soluzione è un po' vecchiotto perché l'edizione originale ha quasi vent'anni, però rimane comunque un testo interessante per chi vuole approcciare la soluzione focus, è uno dei pochissimi in italiano disponibili. In particolare vi dà come libro un'idea che questa cosa carina è declinabile con diverse problematiche e setting, quindi con la famiglia, con il gruppo, individuale, di coppia, ovviamente della terapia soluzione focus. C'è da notare che la terapia breve centrata sulla soluzione non nasce come modello che declina specifici interventi per specifiche patologie, è molto più centrato sul processo e in particolare ovviamente sulle soluzioni di persone. Questo può sembrare un po' disarmante per quei terapeuti abituati ad avere specifiche tecniche per specifici problemi, per me all'inizio lo è stato molto, però poi studiandolo in particolare applicandolo si riesce a vedere tutta la sua forza. Il libro, allora, è molto utile per vedere una serie di declinazioni e in particolare il punto di vista di diversi autori, dato che in pratica ogni capitolo è trattato da un esperto diverso e tra le varie declinazioni ci sono anche una serie di ambiti particolari. Per esempio interessante il lavoro della terapia breve soluzione focus con le psicosi, con l'abuso di alcol, con l'abuso sessuale, molto interessante. Perché praticamente anche se, come detto, non c'è un protocollo specifico a seconda del problema, ci sono ovviamente delle variazioni, delle varianti che aiutano a massimizzare il lavoro in particolari situazioni. Il libro è interessante, agevole, puoi leggere i capitoli che ti interessano di più, oppure fare proprio una full immersion per avere un'ampia panoramica della terapia breve, centra sulla soluzione. Certo non è un libro che ti insegna in lungo e in largo i fondamentali, però rimane interessante e a ogni modo, tolti pochi altri libri nonché il mio sito terapiacentrata sulla soluzione punto it, dove ogni lunedì parlo di questo approccio, questo testo è una delle poche traduzioni sul modello che in questo momento abbiamo. Quindi sperando che nei prossimi anni aumenti l'importazione di materiale sul mondo solution focus, sperando che io riesca a trovare presto il libro da qualche parte in questa giungla, puoi prenderti questo libro e cominciare il viaggio! Mi sto tipo ipnotizzando... Che idea malzana! Lo squilla! Sono solo cinque minuti così?